Radri senza pietà portano via anche l'aspirapolvere. Notte di tensione a Mercogliano, dove alcune abitazioni sono finite nel menino dei malviventi. I colpi sono stati messi a segno nella zona tra via Matteotti e acqua di Michaletti. Sarebbero tre i raid avvenuti tra le 9 e le 22. In azione probabilmente la stessa banda. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto a seminare danni e terrore sono stati tre uomini capricciati protetti da un complice al volante di un veicolo pronto alla fuga. Nel caso del furto registrato in via acqua di Michaletti i ladri si sono introdotti nell'appartamento dopo aver forzato una finestra e bloccato con un filo di ferro la serratura della porta d'ingresso. Una volta all'interno dopo aver messo al suo quadro gli ambienti hanno trafugato soprattutto elettrodomestici. Saccheggiata come dicevamo un aspirapolvere ma anche un televisore. La vittima del raid si è accorto della visita solo quando è rientrato a casa. Presso alcune abitazioni i malviventi approfittando dell'assenza dei proprietari hanno invece trafugato monilli in oro e denaro. La scorsa settimana erano finite nelle grinfie dei ladri due rivendite di sali e tabacchi. In alerta anche la comunità di Monteforte Espino, alta zona finita da tempo nel mirino delle bande di topi di appartamento sui due fronti indagano i carabinieri intensificati controlli nel tentativo di tenere lontano dal territorio i malviventi professionisti del settore abili a scalare pareti di abitazioni per introdursi da balconi e finestre per nulla intimiditi dalla presenza di telecamere di videosoveglianza cani da guardia e sistemi antifurto. Agiscono di sera molte volte si fanno spazio tra le campagne nel buio con i faretti fissati sulla fronte attrezzati con arnessi da scasso fino ai denti ladri acrobati che dopo i colpi sembrano sparire nel nulla.